Ciao a tutti i popoli youtube e questo è il tutorial mio del trucco di Vilcoteca Allora, io oggi ho messo la matita, la crema Nivea, ho un po' di occhiaio però, ho qualche video lì E allora, vi faccio vedere, allora, qua c'è il mio specchio, questo qua, che non metto, beh, con la macchina fotografica E allora, prendo questo, della pupa, il famoso della pupa, i capelli non me li sono stirati, quindi sono del tutto naturali Come vedete, così Allora, prendo questo e mi specchio direttamente qua Vedete c'è uno specchio Quindi appunto non ho molto bisogno di specchi, non specchi, insomma Vedo il mio pennellino, famoso E prendo questo colore qua, che è questo qua Perché non mi chiedete neanche perché Ma sta finendo E lo vado a stendere nella parte interna Come vedete E vado a stenderlo anche sopra, qua Nella parte superiore E Mentre domani faccio un video Del 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 trucco da Halloween Anche se io da Halloween non è che mi trucco Mi trucco diciamo molto Mi trucco però, vabbè Non è che mi trucco Ho visto che cosa Ho visto che cosa Ho visto che cosa Anche perché non Non sono molto brava Quindi E anche dall'altra parte Tucco, vabbè Mi tolgo solo i capelli Lo faccio Lo faccio E come vedete Tucco anche sopra Così ho messo Sia sotto che sopra Ho i brillantini Perché prima avevamo dovuto farlo con Poi prendo questa qua Questo nero Questo Ok E lo metto nella parte finale Quindi qua E Io cerco sempre di metterlo uguale da tutte e due le parti Però A volte viene uguale A volte meno A volte No Quindi Non Diciamo che Come anche in questo caso Per esempio Non è venuto esattamente Uguale In tutti i due anni Ciao Poi Come finale Quindi Come alla fine Metto questo Che è la Kiko Extra volume lip gloss Quindi Metto questo Che è molto molto bello E E Lo metto Qui Come vedete è molto bello Ok Ok Quindi niente Questo video qua A proposito questo video qua è stato richiesto da Laura La ragazza che mi segue Ti ringrazio tantissimo Se hai altre richieste di video Chiedi Non è un piacere per me farli Domani farò il video del tutorial del trucco di Halloween Come Io ho già detto nel video Io non Non faccio Cioè Non sono una truccatrice Quindi faccio del mio meglio eccetera eccetera Quindi niente Un bacio Ciao a tutti E ciao Laura Bacione